Forse oggi ti sei svegliato senza avere la certezza che fra qualche anno potrai vivere della tua passione. Forse oggi nemmeno immagini che un giorno girerai il mondo per giocare a tennis o che rappresenterai il tuo paese alle Olimpiadi e nella Coppa Davis. Forse ci riuscirai. O forse no. Quello che si so è che tutto comincia nello stesso modo, dando sempre il meglio di te. Libera il tuo istinto competitivo. Joma